Un comico che ha scherzato sul principe Filippo mentre ha appreso sul palco della sua morte ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte dopo che le sue gag sono diventate virali, Lewis Spears, un comico australiano, ha rivelato che la sua decisione di raddoppiare le gag a spese del principe Filippo dopo aver appreso che era morto lo stesso giorno non andava d'accordo con alcuni membri del pubblico. Durante un'intervista con SBS Insight che dovrebbe essere trasmessa mercoledì sera, il signor Spears ha detto che i britannici più anziani in particolare erano furiosi quando le sue battute li hanno raggiunti dopo essere diventati virali online, parlando con il presentatore Kumitaguchi, che ha chiesto al comico 27N dov'è il limite quando si tratta di umorismo e cosa succede quando lo si attraversa, il signor Spears ha detto. Non ho mai ricevuto così tante minacce di morte da persone che erano così vicini alla morte loro stessi. È stato profondamente positivo, ma c'era come una minoranza davvero molto rumorosa che era infuriata, molto arrabbiata e sconvolta. Il signor Spears ha affermato che le reazioni negative e arrabbiate sono state alimentate dai media e come hanno ritratto le sue battute dopo che sono diventate virali. Nonostante abbia rivelato di aver ricevuto minacce di morte, il comico ha detto che il set in piedi è stato uno dei migliori che abbia mai fatto. Descrivendolo come un privilegio, le sue battute sul principe Filippo sono state filmate, il comico ha aggiunto, è qualcosa che sento un vero privilegio che sono riuscito a catturare su pellicola e che non potrà mai essere replicato. Scherzando ancora a spese del duca di Edimburgo e della famiglia reale, il signor Spears ha aggiunto, perché quelle erano battute prescritte che stavo facendo sul principe Filippo al festival della commedia per dieci sere di seguito, quindi semmai dovrei magari scusami con la famiglia reale perché penso di averlo ucciso io. Potrei averlo maledetto. Durante la recente intervista, il signor Spears ha fatto riferimento al set in piedi che ha fatto il 9 aprile.